ecco posso farmi la barba? c'è una barbona e ci vediamo fra poco senza barba non ci riesco a registrare mentre intango la barba non ci vediamo fra poco quando non ci avrò più la barba ora me la faccio a zero è crescita un po' da poco non me la taglio ora me la taglio ciao e a fra poco ciao ragazzi buona visione ciao ragazzi buona visione del video adesso mi sto cambiando e vi faccio far poco vedere il mio look con le immagini inserite in questo video spero che vi piace il video e mi dispiace che questa parte del video la vedete al buio perché non mi posso far vedere come sono adesso la pravisi ce l'hanno tutti come tutte le persone fra poco fra poco mi faccio vedere nelle foto cosa mi metto addosso o video o piccoli pezzi di video o foto cosa mi metto addosso per uscire ok ragazzi buona visione del video spero che vi piaccia se vi piace lasciate il pollice in su se non vi piace lasciate il pollice in giù lasciate un commento come sollecito e iscrivetevi al canale attivando le campanelle del canale tanto è gratis questa è la maglietta pantaloni felpa e bandana la bandana non mette all'ultimo dopo ho messo la felpa a fra poco mi metto le scarpe e ci vediamo fra poco il video mi faccio vedere le scarpe e ci vediamo fra poco mi faccio vedere un'altra cosa che mi porto dietro quando vado in giro ok ciao porto il mio marzoppia dietro quello che avevo detto prima che mi portavo qualcosa altro insieme al mio stile outfit primo è questo qui ragazzi ho saputo parlare del tagman sono ancora in casa sono in camera mia e buona visione del video e buon continuo del video mi chiamavano Maranta 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 per me la tuta eleganza se mi vedi ti è in distanza non voglio la tua ignoranza ballon dentro al blocco di rosa loco non tocco la zipet non tocco solo la zà t'la marocco è un game? sono andato a casa adesso mi metto il pigiama e buonanotte a voi e al prossimo video grazie